Saluto a tutti gli lettori di Tecno Youth, oggi siamo qui per mostrarvi i trucchi relativi al gioco Poo un gioco che ha avuto tantissimo successo perché ricorda moltissimo il Tamagogi di tanti anni fa e un problema di questo gioco, dobbiamo dire, sono le monete che bisogna ottenere per progredire nello stesso e noi abbiamo intenzione di mostrarvi qualche trucco per ottenere appunto monete infinite la guida completa la trovate nel nostro articolo sul sito e leggendola si può notare che avrete bisogno ovviamente di una pk modificata che potete trovare sempre nell'articolo dopo aver scaricato la pk modificata e averla spostata sul transformer in questo caso apparirà questa schermata installate il gioco, la pk modificata, aspettiamo termini, sta installando ci vorrà un pk appena terminata premete su apri si avviera il gioco si avviera il gioco potete notare subito che tutto funziona è l'ultima versione, la versione 1.3.10 e le monete sono tantissime, sono un numero sorbitante con questo numero di monete potete fare praticamente quello che volete è semplicissimo da fare per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo un saluto da Tecnoiut Grazie a tutti Grazie a tutti